Oh, guardi, tu? Chi ti faccio? Ma ho troppo? Dopo che fino a qui ci va? Se mi ricordo, quando c'è il game se cambia nome Ah, eh? Dove vogliamo giocarcela questa volta? Sembra lontano, come prima Più dal posto, se andiamo nel bosco è perfetto, capito Sì, sei col collegamento di tutte le case Dove puoi andare? Un po' un po' Sì Siamo in live, dalmeno Sì, fammi te se ne assaltate però Cioè, se esce, se youtube Sì, esce Comunque, sei perso a bosco A bosco perché comunque C'è il collegamento dei portali per tutte le case Sì E poi perché c'è il rift permanente C'è, quindi Se starà si affrontare a premessenzione E fai legno Fai un bug Legno la mano Poi te lo spammi Quindi fai il mostro? Legno Che Ah? Che detto? Dici, dici Sì Ma siamo... Stai live? Vi controllate sicuro? Sando che sia Sì, esce Allora, insomma qua Allora non possiamo parlare di nessuno qua Ma eh Vabbè, io ti sto lo stesso Poi se qualcuno lo so C'è una metrietta bianca L'ho trovata blu io Io ho il calcio a blu Sì Sono alla ricerca di un bomba Se staranno se qualcuno lo prende la questione Dico... Chi sai chi? Bacco verde Un bomba in più per me No, bene, muovo un banco verde Caracca Dico Le schiere La ricerca di un bomba Prende 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 Un bomba di merda Che non mi fa prendere Che bomba trovata? Un deck bianco Ma non me lo fa prendere, guarda C'è un deck verde Ma no Vedete, in questo momento c'è una mezza Sì, vabbè Ah, non le vuoi portare prendere? Sì, c'ho due slot lì Eh, vabbè, inserlo qua Buona Hai sbagliato Hai sbagliato? Non scendere tu C'era Un bomba di merda? Oh no Ah, ma non ti volevo far cadere Cioè, io volevo O stavo cadendo nel rift Allora, fammi Vabbè, il rift è permanente Lo prendi di mare là Ah Eh, quindi provo come provare, provo Prendilo e ritornalo Ma perché non mi fare Se non mi vuoi L'ho arrivato qua Non so in che casa vado Allora, Carmelo, guarda Ogni portale è una rift giocassa Ok, c'è un bambino del nonno E dopo prendiamo quel rift Capito? Capito? Ogni portale è una rift giocassa Ho visto, ho visto Che stanno giusto quattro cari Ma scopri la delante Un po' buono Com'è? Hai shield? Com'è? C'è una pozza del 50 Però la sto portando perché Mi so di... Stiro quello Ma no, qua giù si sono giocassa Oh Quanto affetto? Un lancerà di quadro le quelle delle belle Eh, un vino vado Per ora ti posso portare Pino vado che puoi portare Per ora te lo posso portare Per ora te lo posso portare Per ora te lo posso portare Per ora arrivo da te No, no, aspetta, mi vengo io Perché ho finito tutto qua Un po' buono So qua, so qua, so qua, so qua Un calcio a blu carmelo Colpi 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 Cioè colpi 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 Un po' dentro all'altro Vai lottiamo un altro porto Prendiamo qui Io sto lottando l'ultima caccia qua Cioè colpi 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 Mi sto trovando Mi sto trovando Ah se non tocco Uh, non ho blu Ok, ecco Easy Tutto blu Io no Io sono un arcobaleno Blu Viole E io no Io tutto blu Perché io ho Scusami 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 Arrivi Almeno sei La militante Dà una cosa bella Che cosa? I colpi 90 colpi Ok Ho 346 colpi Vai Vai Lascia La scena Non li ha presi La scena No, li ha scena qua La scena più L'ora Ah, rimane uno shield in un po' Praticamente Ah, va Che ne va C'è meglio Oh, si Vabbè Andiamo al laboratorio Chiamo Avvieni Che Scusami Vedete quassi quanti corti metti c'hai carmino? non c'è da me eh dammi una trentina fino a che partiamo non ce ne ho ah, tutto andiamo oh andai a container vabbè va facciamo un po' di vetro ah con con container cannelli poco 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 no, l'ulto si proposto regalo è di borde maico c'e facciamo un avare notto stamattina non sono tutti da oggi e che power ho trovato un video su youtube che power mostra come bussare GFPS mostra come bussare GFPS che con un comando non ho capito come power mostra come bussare GFPS eh ma non l'ho visto perchè ci sono quei canali che ti mettono le eeeh nonostra nonostra chiara chia pizza chia pizza oh ok che c'è qui e saluta anche e mamma oh che ci sono io sono un record oh non mi piace molto perchè c'è il cittadino ok d'avvio per la safe vedevole di cittadino a me non piace io l'ho trovato poche volte io non l'ho trovato ma ce l'ho provato una volta quella partita per la partita per il secondo posto lei c'è stato già in live o no no in modo se stavo in live tutta la gente che gioca e sono scarsa e non c'è un portato di scuola ooooh 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 atlantisi atlantisi no capisco l'oletto Atlantis-United io sono magico eh? l'albero è visto che si è rotto adesso l'albero si è da un metro quadro venti ma non fai da un metro la sopra la sopra la sopra la sopra la sopra la sopra questo pistola se ne vuoi se ne vuoi viola capito viola non viola eh oh sentrai sempre colpi lancerati troppo ok quanti quel più cecchino è? buttone 6 7 oh perchè me? butti ok qua il cecchino silenzato quando spari sembra spiderman disperla nella mia vita uh da dietro porco zlater no caggisti nico a eccla 37 con la k è uno solo dovrebbe avere la tua skin anche è uno solo come vado 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 37 Siamo con l'angeraggio Uno sta qua dietro Qua dove sta il link Siamo presa No 80 a quello 80 a quello Ma vediamo Spam 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 l'albero qua mamma razza vedete che non ce n'hanno signor 101 101 ah links rosso ma quello muo' me a terra perchè c'è lo spazio e io c'è il gomma del nonno porco diiii mamma guarda questo quando lo diamo space ma chi è che ci sta guardando uno spettatore attuale ah morgo diiii per minuto carmine carmine facebbe sembra nulla nella monetizzazione si ma quando vedi carmine lo danno io scemo sono non ma si 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 non si ora devo... col... da vicino con le doppie pistole non mi hanno scambi dove l'ha mandato? ma addirittura... si aggressivi no? almeno lo conosci a mezza vada ragazzi ma sei sempre con la chat del tablet aperto? ma una volta aperto ce l'ha mia sorella su porterelle ma tanto non c'è nessuno zero... ma non c'è uno spettatore ma non so chi è Raffaele? no... si era Raffaele avrei conti come non ci spammava ma allora... non so ok nonno... nonno... ciao nonno nonno mi è bussato adesso c'è un calabro bro vada se trovo un assalto buono non puoi capire che combino che c'è io sono scudini vai fatti li io mi fullo oppure il regalo happy board per me happy board uuh fatti lo mozi fatti che ho pure il rampino venga... non si ragione ma gente atterrata ma non bello non bello oh se come si mette la ricaricatomatica no... la ricaricatomatica no... la ricaricatomatica no... la ricaricatomatica c'anzi sei a darmi tu non si stisai che era un po' il privato hai capito il regalo quanto prezzo sono st 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 no... st 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 un po almeno qualche colpo no 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 anzi non ci sono la vostra c'è un m4 blu qua che cecchino sull'entradio quanti piccoli hai questo non lo so dove c'è l'assalto blu dall'altra parte della casa no no giù giù piano terra in quanto qua l'annualipe non bomba spemo e picco eh non stai neanche a più si è renderizzata una shield a 50 sicur'è un pare che la pistol parte di chi si è una shield a 50 lascio lo shieldino eh non lo prendi lascio lo shieldino e venito dietro a prendertelo inizio è una cappa blu eh nooo questa partita me lo vedo da discorso non so perchè mi ha passato dai un cecchino pesante a me lascio dai un cecchino silenziale oh vai là dove sta il parcheggio dai un cecchino pesante no lascio il sangue prendo le band ah gottano e ti tiro perchè sennò eh allora dammelo quel pesante chiedi perchè la vera cosa è quella fisica ho lasciato 10 band però eh eh non va niente che ne è qua ah non faccio l'essere io al loot siamo morti siamo da sul qualche ah lo spazio qui c'è un altro ma la casetta o no? eh eh oro Betali no non ci sono andato proprio mi scorgi è lo io ed entro un po' va per te no ma si è andato tu alla case ah no 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 niente ci sto ne spesando i droghi belli e merito i droghi è un campionato da calcio da tennis perchè c'è l'agenda? no no per sapere si era luttato, luttato no jump buona bottengine ho trovato ma per queste cose danno quando non è staccionato ragazzi se ci servono no infatti c'erano più ragazzi se mi servono la partea di più non mi si viene ragazzi dai ma non mi si viene ragazzi dai ma non mi si viene ragazzi ma rimane al follo per spallo che si vede di più ah cappando cambiamo in una terapega il giro io c'ho una jump ma qui guarda qua qua arriva da un bloc e se ce c'è la la chest il camion il camiontino si già medikit medikit eh camille che stai portando per caso di non prendermi medikit ehh c'è il leggi 1 Quanto? 1? 2? 2, adesso 2 Allora lascia Ma io ho shieldini Se c'hai shieldini, ma io ho shieldini Io ce l'ho, c'ho i shieldini Quanti shieldini c'hai? 5 Eh Ok, qua non è giusto Caccia, herda Dicol e 3 shieldini Oh, guarda Dimile Siamo, arrestante Se fosse 3 casse pure Non ci serve, non si pare Eh, è vero Oh, prendiamo l'aereo, andiamo Sì, sì, aspettiamo la sef Raga, andremo un po' dentro Sì, 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 sì. Non sono i suoi Ma che sia il po' Il mio Che è il mio Che è il mio E' un po' P.P. 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 diventerà Ma che fai di un ballone? No no Cieni, cieni, cieni Hai fatto atteggiare l'aereo Eh oh Allora, allora Calma, dobbiamo aspettare qui Saliamo qua solo Saliamo qua, saliamo qua, questi non hanno lasciato l'aereo Calma, salta Calma, salta Che cosa sta? Calma, calma Altanto da parco eh, quando picchi ripeto sul cassero di fronte io sono due carmino uno c'ha la scheda video il pack della scheda video c'è un c'ha la scheda la scheda la scheda il ca la scheda la scheda il ca una non 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 ma te aspettà stiamo vedendo quando è questo ma questi poi mi atterrano la con l'aereo ma non è possibile massa animale hai i drappole spama spama e shot spama e shot non ti far cadere in testa bravo spama e shot quanti materiali hai? vedi che nel mio loot c'erano anche delle cilde a 50 ma questo non sai giocare è un porco matricolato questo con campano è salito bomba la mano, bomba la mano, bomba la mano bravo curati, curati veloce 20 minuti e ti scatti, mangio dove sta la sfida? vai dal mio loot, vai dal mio loot e prenditi non ci piace il guanno come è? come è? come è? come è? come è? come è? adesso 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 mamma mamma guarda è sceso è sceso è sceso è sceso veloci saldo 50 veloci fattela 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 non si può giocare così come si può lanciarazzi lanciarazzi aereo e attenzione una kill e due kill lanciarazzi e due vabbè so perché giocare oh tre spettatori anche pizza ciao ciao pizza com'è andata la partita quale partita edward 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 ma puoi stare ancora ma dove pure ma sai che faccio no ma prendi tutta la partita sopra l'aereo e poi scendendo di vabbè ah ho perso raffè stai aereo di merda non nasce la vittima ho perso come al solito tratto d'altro d 20 punti 20 15 punti non mi ricordo precisamente che cosa c'è no raffaele ha detto la partita a folla come andò che cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è dove andiamo palmetto palmetto mi è tutta ok adesso palmetto wow l'infurma non sai che l'ha detto tu sei tutta wow wow l'infurma vai vai si si ma quando è stato stile si anche capite che me lo denunciava però ti porto in prigione con me ti porto in prigione con me soltanto con me non chiedo la luna ma vado in prigione con te forse il preservativo che io non lo posso comprare oh yeah! ho uno che si chiama Thanos, veramente ho letto ho letto Titan Thanos eh non lo so perchè ho la trasmissione streamer vado giusto giusto questa è la nuova precisione purissimo guardi nessuno 3 o 4 oh scadlo ok mezza me ne 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 stai a merito cosa non possiamo prendere il tepetto no ti sanno se non devi non ma come hai la luna fai lo darmi lui vieni da me soltanto da me vieni da me vieni da me 4 pure che mi tengo scarmo idro come pompa lo tacco bianco no no lo tacco bianco guarda il rabbino magico che rabbino, ci siamo affezionati ci sono chi c'è teme che vuoi che rabbino se il video ti è piaciuto lascia un pollicione altrimenti sei ancora nulo allora il video ti è piaciuto lascia un pollicione altrimenti sei ancora nulo altrimenti sei ancora nulo e se non lo lasci sai purtroppo che prima o poi ti sicuro un paguro pure italino per me nonno blu che ci sta un po' qui no no a cappa viola ho lasciato lo scarro e spero non trattimo le calciote lancia raggi suona per lo arrivo a te non tengo non posso trattare queste cose a carmio dove sta lo scarro al centro dove ci sta l'isoletta non mi alzano lo ha sei colpi lanciarazzi due non li troppo non li troppo che se non li troviamo no lo so eh lo sai no di solito quando ho trovato la cesta non c'è la cesta easy boy boy farà caggia sulle spalle due vado guarda ma c'era dove sta lì dopo questo lo scarro un momento carminolo vedete dove sta il regale di frutto sei venita a me adesso a ma tu sei sicile ancora vieni da me adesso per favore guarda Quanto volevo prendere un braccio? Almeno ma... Vedi il regalo dove sta là? Al palazzo centrale stiamo con il regalo aperto L'altro dentro sta l'entraghetta blu Che mi devi dare? Hai due colpi lanciarazzi Colpi lanciarazzi io Te li ho dato Dove? Te li ho dato Ah non te li ho dato Ma devi trovi Ma devi trovi Uh digal qua sopra Ho lasciato la digola eh Qua due! Vabbè importate le lo posso Non ho due Stanno due Stanno due se non mi sbaglio Quanti Ma ce l'hai palloncino a portare di mano? Ah non le hai preso e l'hai rotto No no ce l'ho ce l'ho Ti vuoi far rubare un palloncino? Eh no no Eh anzi due Troppa nemmeno Troppa nemmeno Troppa nemmeno Troppa nemmeno Non posso portarli così Come sei full Sei full? Andiamo una Quella 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 Ma qua c'è ancora Due cazzi al tuo atto Beh però La grossa cesta goal me la vorrei prima Non mi cazzo 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 Sarò due ritti ah Vado Non mi cazzo Non mi cazzo Non mi cazzo L'hai spostato Eh eh andiamo a porto io ho pure un disportatile c'è ancora uno che mi spetta ma ancora non capisco chi è ma e che lasciate dai 3 minuti qui nella nostra casa oh what a lag 25 5 minuti qui ho tolto i palloncini mi sono preso ma c'è una cosa ok ho lasciato i palloncini ho preso le gonne ma i palloncini non c'è oh 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 lo lascia 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 ah no vado tanto che trovo così il boom oh ci sanno questi qua con lo cosa uno giù e uno su il cod che non sa portarlo 42 81 86 86 86 86 86 pure all'altro madonna mia qui sono 81 blu io allora sono fatti malissimo pushiamo poi ci muoviamo vai ci può ammalazzo ci può ammalazzo qui dentro terra 1 morto easy boy è un vecchino ok quando il medico lo puoi dare per favore ci sono il pirato te lo lasciate il pirato è un po' il pirato che è un po' Una mitraglietta, ce l'ho bianca Guarda, guarda, sali, guardami lui Veloce Vedete, non prende le gambe Vai, guida, guida Oppure, tu puoi M fronti mo, tu puoi Oh, in saves Ero-te-ro, bloc-ro, ti puoi Ero-te-ro Vai, vabbè Oh, non s-pabondi cappato S-a la scopo dobbiamo fare un volo giuro sai ehi demo ma quando cadi dalla sempre è così posso la 50 eh c'ho 3 cd no no ma non lo devo fare scusa 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 dobbiamo prendere l'artezza no 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 il rift lo dobbiamo usare in situazione di infuggito io di mi pento di aver posato il catch per quanto è potente ma quello che ho combinato prima col catch ho fatto 86 86 no carmen ho sbagliato tutto quando ho preso il rift al palmetto c'era ancora il palloncino mi ha sempre scritto quando salto mi ha scritto premi contro terra prendiamo questo rift eh stava fuori via scusa devo prendere l'artezza veloce è tutto baggato questo mondo questo è la terza partita che ci troviamo in un endgame di coppia quello che abbiamo fatto c'erano sempre trovi ok ma guarda l'altro è proprio no ok salgo happy birthday boom vai saliamo ancora più si si lo so quanti mazzai? no beh, full legna 2 di mattone e 2 di... ok 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 più o meno siamo pure io, la stessa cosa oh beh, lo fanno pesando più ragazzi sull'icona oh, carrietta verde bomba del nonno blu oh andiamo nel castello che abbiamo l'altezza c'è una jump qua ma qui perchè la già, dove sta la già eh, 71 attendo che mola, io mado mosaile la gente, non la prendiamo dall'alto oh, beh, mannaggia la puttana da fuori si è qua, però tutto fuori si non so, da dove? non lo so la prendere con la jump che dici? bravo, bravo ti andai chiedi veloci 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 dove andiamo? guardi il cuore guardi il cuore ci diamo a dove? al limite della prova scendi 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 però scendi la prendi anzi, prendi questa fune via prendi questa fune via la riesci a prenderla dove stai dove? cazzo, l'aereo mince, sono noti scritto allora sono scesi Edward bravo sali da me sali da me stai arrivando pure questa? è uno sono due dai dai dietro io ti lavora il mio carmino ma che ce l'aveva lui il cosa? dai, no, ce l'aveva di qua che lui era il mio non lo sto forte sto forte vadoo scampo ah ma erano gli ultimi due what? come erano gli ultimi due? questo frame, questo qua con 44 di vita run eh, quasi chi c'è il tuo? sei no, invece ah, quel vedi quel buggan fn eh, il compagno eh, quello c'è quell'ombrato no, eh, guarda però ho trovato la video conoscere comunque ma comunque Manuel non so se stai guardando ma hai visto quel pompa l'ultima bombata che ho dato l'ultima bombata che ho dato quando l'ha tolto pochissimo praticamente ho capito eduardo capito eduardo l'ultima bombata che ho dato con lo spas ha tolto tipo 60 perciò l'ho rimasto a quello con 44 di vita non me ne ho raccolto per gli ultimi due lo sai manco io pensavo che c'era ancora tante tante gente idem ma noi quando siamo saliti sulla montagna ne mancavano 10 io ho detto ah, pure quest'altra partita ci siamo classificati in endgame no no il nostro ultimo quando andano a botto wow questa quarta partita ultimi classificati ebbene replay per cosa ti mandano a me ti sicuro ti sicuro ti sicuro che giustizia oh lele ma bella giornata o lele o lele Tantipo dai, vada alla tattipa, c'entra ad un senso Cardinù Però siamo vicini, ah, uno l'amiciamo Se non incontriamo uno di quei... Lande, cosa sarebbe la vita? Vado Di cazziveri alle ragazzine Sai, cammino con Power, vedi la skin che c'ho io Power c'è la versione buona di questa skin Eppure io ho la schermata No, la skin, dico la skin E c'ho io, la vedi? Qua è il robot nero Power c'è il robot con lo blu, l'aranzio E c'è pure il robot nero Ma non vedi, ti chiedi tra le case No, eh Ok, se la vissera silenziale M4 bianca Tu pure la mentale, io se la vissera silenziale Shield Mitralette verde Giorta abbiamo, ma vissera silenziale Oh, vedi Ragazzi, mi chiede l'altro L'altro c'è un gengq Tac bianco E' l'altro, mi chiede l'altro Allora, l'altro c'è un gengq Ma l'altro c'è un gengq ... Eh, l'altro c'è un gengq Ah, ma l'altro c'è un gengq La gente non c'è mai giusto? No Lo spastico a start game è qualcosa di giusto Perché fai 100 bianco e la gente... La scioglie la gente La gente è difficile questo ospite � legale La scioglie è stata l HEETTOK La lungo five vado al bustetto ho lasciato un medikit qua l'albero l'hai l'albero dei desideri l'hai luttata desideri no no anche questo ok aspetta me oh hai già l'armata se viene da me 150 per te si vado vado avanti un altro albero di desideri guai mi piace non mi traietta verde e qua vado 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 dove c'era la cesta m4 blu qua c'è un good per andare in safe nel caso dobbiamo andare in safe vado 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 il boschetto di fronte a bella looo looollo loo looo 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 buco il sterf il capino ehm dia questo l'ho chiave lo strancho se vuole il riscambio la ok 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 da camion da sopra al magazzino rosso magazzino rosso il lungo rosso non lo vedo ok vieni io già sto a finire c'è uno è andato dentro, è andato dentro il giro, non lo vedo qua c'è il pallone uscita c'è il pallone uscita c'è il pallone uscita c'è il pallone uscita il pallone uscita 36 headshot c'è lo spazio qua è blu non mi far finire c'è il pallone uscita confini c'è romone uscita no mi finisce è andato a arrestare il compagno mamma lei le ha detto veniamo arrivano fallo spaccare non è stato guarda una fermi no fermi no la dice da 10 anni fa dice una pelle prenditi lo scarro cildini cildini guardi segnale tre te ne dovo uno solo guarda la mia memoria quanti colpi medici hai carmini? la mia memoria eh bene cosa dammi il bene allora eh tieni scusami hai ragione quanti colpi medici hai carmini? 256 eh buttane 30 quanti piccoli hai? 4 e 20 uuh potremmeno da 100 va bene e anche cecchino eh manu se stai guardando questo era per te ma tu hai visto a quello? che c***o ci ha combinato tutte e due se non avessi avuto lo spastico il nabo ci finisce ah non mi vuoi devo farmare infatti sei un grip va qua scemi scemi sei andato a arrestare il compagno ma non ha capito chi tennevi conto infatti vai a arrestare il tuo che resta il mio eh e poi il compagno e poi il compagno c'era pure di prova no vabbè se ero fatto uccidio l'ho hittato io l'avevo hittato ma che hai fatto? se non la c'era una trentina non mi ricordo una trentina comunque se non la c'era una trentina comunque e poi tu potresti giocare per me in sicilia comunque c'ho 5 belli eh eh dammi le fissi portatevi no vabbè le posso portare però c'è uno spezio libero hai qualcosa che servono che servono i razzi no perchè c'è un 9 non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo uuuu 4 minuti a nord damiano più avanti dove stanno 1 ma 2 ma non mi ricordo il compagno 40 ok ok se non mi ricordo la strada 3 ok ok mi ricordo mi faccio l'ultimo poi stocco tutto ok dove diventa? no devono venire gli amici a casa no allora mi ascolti secondo me ha 337 la casa rotta c'è gente ti dico subito perchè ci sta un regalo giù e la cesta non ha una cesta non è aperta sopra ah allora mi ricordo non è sicuro che hanno aperto il regalo però non si riescono di ruttare la casa io non so non ho capito entrati qua intanto però hanno pure faiutato l'arma blu là fuori sii una cappa e un bomba del nonno oh ho trovato 360 di lì zen mi ricordo che te ne ho capito un calcio di lei pesante avevo di lei deve riuscire il calcio c'è un calcio pesante credo credo è leggendario il 392 l'accetto con piacere andiamo ho visto l'arma blu io salgo sopra tutto qua siamo al centro si freddo io devi sapere qua sopra tutto è buono la posizione guarda dove sto guarda dove sto qua guarda giornata il suo punto o se il pomo sotto il suo l'aggianti il titolo per l'administro l'aggianto 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 direttore questo gs lei c'è un spettatore fisso che mi guarda fermo un timore questo è un ballone ok da su ah no ce ne sono due vengono verso di noi dove stanno? ci hanno pushato io prendo la jump vengo con te no no ce l'ho ce l'ho fatto qua l'aggianto l'aggianto non lo so non lo so tu come si è la trappola scendi 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 st 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 metto la volta mi ha fatto scendere sarei un attimo sono affidato tanto andiamo un fatico nato farmi vedere dove stasso l'aspirato dove sarà già ma dove stanno visto che sono fai tanto fa adesso io stava vedando pesando io bono c'è carne ma non è possibile raggiunto no ah l'ho trovato no carmine monte c'è un traggetto c'hanno là dentro c'hanno là o pres là dentro in quella casa secondo me si sono curato perché ci non farò eh nella casa assurda nella casetta rotta assurda stanno giù guardami dove stai ho eh ma non li vedo ah qua ci stanno stanno dentro uno scelta usci diretto buccato no vai è andato figliatelo seguo 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 ma vuol sì la trappi oh pressivo ragazzi è qua eh ho preso al pizza direi io mi ha ritato è qua è bravo edward bravo edward bravo edward bravo edward è qua l'assale c'è ragazzi bravo edward ma vaffan gucci beh alza ma vai 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 due volte due volte l'ho provato a prendere se ne è scappato con la jump due ti è pushato ti è pushato costruisci ma roba non mi corre non mi corre in personale ma perché non corri perché non mi ha corso in personale quando i materiali avevi scuso questo è la forte però che caccio mi do pusha pusha ci stanno qui ci stanno fai dando come gli animali muoio di apposto gli altri trito questo babbo edward sacco ciao 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 a tutti ragazzi bella bella live ciao a tutti